Grazie ai dischi che Noi Negramaro ho venduto, penso che però alla fine siamo rimasti il Giuliano di sempre. Mi piace stare solo in spiaggia, sentire proprio il profumo del Salento, il mare, la terra ed è così che nascono questi progetti che sono le mie canzoni. Dove in effetti sì, siamo stati bene, però sentivo Noi Negramaro proprio la mancanza del Salento.